ciao a tutti voi da questo video mezzo blotus oggi analizziamo due questioni che stanno passando un po in secondo piano sarà anche il periodo estivo sarà che sono troppe uscite quindi la gente ovviamente non riesce a stare dietro queste cose neanche noi e ce ne occupiamo facendo appunto video praticamente ogni giorno ma appunto visto che c'è tutti questi pasticci analizziamo le vediamo come possono impattare il futuro queste due cose sono l'abbandono di the list e il non emerge si man di alcune carte problematiche in particolare due formati prima di cominciare però e analizzare queste questioni invito lasciare mi piace commentare iscrivete al canale soprattutto abbonarvi che sono le maniere più dirette per sostenerci inoltre c'è l'abbonamento gratis se avete amazon prime quindi sfruttatelo se volete con noi su twitch o ricordatevi di rinnovarlo se ce lo fate poi vi ricordo il nostro sponsor qua vedete il loro sito fantasy store punto it sono molto forniti e con noi avete questo sconto che vedete qua sotto l'autos 5 che mi dà appunto il 5 perso di sconto sui prodotti che non hanno già scontistiche quindi approfittatene magari delle carte singole o qualsiasi altra cosa che possa interessare manga gadget insomma potete tranquillamente sbizzervirvi detto questo cominciamo con le varie analisi la prima che di cui voglio parlare è ovviamente la questione dell'abbandono di the list o the list cos'è è un insieme di reprint che potevamo trovare nei pacchetti anche normali anche normali non erano solo nei collector e apparivano ovviamente molto molto poco infatti era non andava a influenzare il prezzo delle carte una carta dentro della delice non cambiava il prezzo è come se non fosse stata appunto ristampata perché già compagno di base è pochissimo e poi comunque non avendo una diversa realtà ancora più un pasticcio quindi non appunto non gli metteva sul mercato chissà quante copie di una carta messa lì dentro però era un aiuto l'altra cosa era che poteva essere carina nei limited odio anche lì e ora un po indipende nel senso che spesso potete trovare una carta che non c'entrava nulla assolutamente nulla con il set ed era lì in mezzo adesso non più infatti poi andremo a vedere qua e l'hanno annunciato qua ma molto per questo molto in secondo piano però non fatto un articolo apposta dicendocelo cominciando con bloom burro tutte le carte archiviate conosciuto come anche the list non sa non ci saranno più nei vari play booster queste carte saranno solo le special guest card le special guest card di bloom burro sono queste qua sono queste 10 sono quindi le carte rischinnate dentro dentro il set quindi sostanzialmente non parole povere cosa succede a the list sparisce ciao ciao bye bye e otteniamo il special guest al posto loro le special guest sono carte che vengono appunto anche loro di stampate ma anche reschinnate per poter essere flavorful con il set quindi infatti vedete abbiamo frog might in versione rana di di bloom burro abbiamo la spada di fuoco e ghiaccio in versione appunto come se l'avessero creata le otter quindi praticamente una lisca di pesce con la magia di fuoco e ghiaccio sopra abbiamo silvan tutto lo continuiamo a letti carini toski se fosse di questo piano e così via allora dal punto di vista del limite ed in realtà questo è abbastanza un bene perché comunque il pool è più limitato e sono carte un pelo più curate che soprattutto c'entrano anche col set alla fine della fiera la frog might ok non un po c'entra col set perché ci sono i food quindi la puoi scontare è comunque una rana quindi bonus delle rane i vari ratti anche lì appunto ci sono i vari ratti come limitate che sono threshold di mir quindi si basano un po sul cimitero è appunto la tipologia dei ratti poratto fare sempre cosa del tribal e così via quindi dal punto di vista è un po meglio punto di vista ricchezza del pool di carta poter trovare e sculare trovare carte un pochino più bella ovviamente questo un peccato allora c'è da dire che comunque il numero di queste carte trovate i pacchetti era bassissimo infatti se andiamo a vedere cosa ci danno qua su bloom burro vediamo che praticamente l'1,5 per cento dei play booster a una carta di delista al posto di una comune allora il processo abbassa il fatto per trovare delle cose belle posto della comune per carità e abbassa anche un po lì di generale dei set quello sì perché comunque prima potete trovare magari un po più trovarne un po di più e anche essendo che c'erano anche altre belle potete trovare appunto più vaglio allora sinceramente se questo cambio se questo cambio verrà supportato da delle special guest sempre più curate e dettagliate preferisco allora non lo vedo come estrema grande perdita per un semplice motivo ragazzi e che effettivamente questo più un cambio dovuto a effetti logistici cioè starci dietro a una delista gigante è sempre più grande da incorporare togliere pezzi inserire pezzi per comunque le carte poi ogni set andavano cambiate perché così è un lavoro troppo grosso con la wizard che continua a stampare c'è troppo c'è troppo prodotto e siamo troppo congestionati ma alla fine ragazzi c'è il problema di tutti i problemi che abbiamo di magica sono i set alla fine un'unica radice il fatto che stampano troppe cose che intanto alla fine della fiera se non vanno a colpire questa radice questo questo perno c'è il fatto che viene stampato un prodotto non la risolviamo cioè quest'anno è davvero congestionato considerate che è stato pure annunciato foundation e foundation non c'era c'è foundation non era tra virgolette previsto cioè magari loro ovviamente interno alla wizard già lo sapevano magari da un po di tempo per carità però noi player no c'è cinque anni in standard bla 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 quindi già si era fatto il conto con tutte le uscite dell'anno che già erano tantissime già hanno troppe più i secret layer quindi c'è infinita roba che si che non sono set ma capite che c'è il set voglia delle carte più segreti e vogliono anche altra roba c'è tutto un disastro che si concatena con in più anch'esso foundation che c'è proprio c'è un incastro gigantesco tutto d'estate è un disastro disastro quindi se questo aiuterà a migliorare un po la cosa ea curarlo un po meglio sono abbastanza d'accordo alla fine della fiera non ne sento troppo la mancanza mi spiace un po per il baglio è però la metto anche un po sul personale sinceramente non apro questi tanti pacchetti ma anche la metto anche su personale ragazzi non è il massimo lo so non bisogna talare la propria esperienza alla propria esperienza di tutti ne sono conscio però dico vabbè ma in generale vedo comunque la gente gli spacchettatori seriali tendenzialmente si muovono sui collector perché aumentano molto più value sono molti belli d'aprire e quindi in generale loro comunque non vengono attaccati chissà quanto già molta roba dai collector quindi fine della fiera mi spiace ma vabbè il secondo problema invece questo è un po più che allora sostanzialmente la wizard ha già detto tramite blake in un punto di una live qua poi questa è la live magari ve la lascio poi nei commenti se volete recuperarvi il pezzo recuperarla in generale cerco di metterla poi appunto linkata in fondo video nella descrizione sostanzialmente ha affermato che non ci saranno emergisi ban allora il prossimo ban è previsto per fine agosto mi pare il 26 la prossima valista update scusate se bevo ma davvero se muore è previsto per il 26 agosto ciò vuol dire che ciò che noi stiamo come player come community chiedendo a gran voce gran parte delle persone attenzione non è che alcuni si altri no precarietà perché ognuno le sue parere su questa cosa a gran voce chiedendo il ban di nado in modern e in legacy split un attimo così è anche più facile il ban di griff perché griff animator scaminator chiamatolo come mi pare è un grosso grossissimo problema allora questa cosa non mi trovo non mi trovo molto d'accordo allora partiamo da quella la più facile allora su grip reanimator abbiamo secondo me già abbastanza dati non gioco con un gioco tanto legacy ovvio che non sono un esperto del settore ma sentendo i pareri di persone che lo giocano un bel po che sono più esperti di me sono tutti molto 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 tristi della situazione che il formato si trova in questo periodo la combinazione di mir più la possibilità di scammare in maniera incredibilmente efficiente grazie a reanimate troppo forte allora questa realtà è una cosa che gioca da un bel po di tempo non è uscita adesso con mh3 anzi semplicemente con mh3 il mazzo si è potenziato perché ha ottenuto un altro pezzo chiave che la psychic frog punto c'è però anche già prima di mir scam veniva giocato semplicemente sia ancora di più potenziato e quindi già era forte potenziato ancora di più no ragazzi secondo me bisogna fare un attimo qualcosa ciao ciao vai perché incredibilmente di forte rispetto uno scambi modern perché rianimate cambia completamente il modo di giocare questo mazzo potete utilizzare griff per togliere un pezzo chiave l'avversario ma in caso di animarlo voi se considerate che rischiate certe volte di magari piccola tracks di bicchiere rubo la tua trazza perché io ti sta ti tolgo una creatura bella dalla tua mano con griff e poi la rendiamo io ma poi in generale mi permette anche a me stesso di giocare a quel tipo di piano e mettere appunto creature belle in poche copie tramite a trazza e appunto l'arconto e la crudeltà così da questo un mazzo che comunque gioca ponder e branza quindi vede tantissime carte perché la combinazione di branza ponder e fecce e tra l'altro anche su bayland fa vedere davvero tante 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 carte nel mazzo quindi creare la combinazione per riuscire a rianimare una creatura grossa in mid dal mid il game in poi è incredibile se vuoi fare in early game ovviamente la è il sogno di tutti fai la classe cosa che fare animare e fare animatore di farla però c'è ti permette di farlo praticamente con consistenza con costanza perché manipoli tantissimo il mazzo ma a differenza di un redimetro classico che può avere un piano b brutto cioè non faccio niente o creaturine insignificanti questo mazzo che ha un piano b molto 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 buono sono liste che giocano master si può giocare alla puntola rana la prog che ottima perché ti permette di attaccare fare vantaggio carte quando fa danno scartare le creature grosse e incastabili come traxa e l'arconte e fare vaglio e riciclare carte nel cimitero per fare ancora il vantaggio carte perché dai volare quindi riesce a picchiare facile vince disastro fare davvero tante cose e la combinazione appunto di mir ti dà poi come dicevo manipolazione incredibile del grimorio la combo che dicevo branza ponder fetch che è troppo forte ti dà poi soprattutto ovviamente i grandi infamoni del legacy counter a zero da days e forso will quindi tu continui avere questo piano proattivo forte estremamente unfair coperto da counter perché giochi days e forse days praticamente non ti rallenta neanche perché ti riprendi in mano la terra quindi tu puoi giocare tutto quello che devi giocare mai tap out e bambini la terra ma non perdi nulla dal bordele dalla mano mentre forse ti piccina credo che ti piccina carta in mano ciao dc finita lì niente questo mazzo sì sicuramente ha bisogno di una ridimensionata ma ripetono lo stato del legacy lo dimostra lo dimostra e tra l'altro se mettiamo a 14 giorni vediamo la percentuale di online legacy rianimator vedete 20 26 per cento praticamente quasi 27 e tantissimo ragazzi c'è e addirittura di più di nadu che adesso andremo a vedere a breve per quanto riguarda il modern è davvero tanto tanto alta se mettiamo a 30 giorni comunque il mazzo da tanto tempo che c'è 31 4 31 4 tanto per tanto per vedere cala giusto un minimo a 90 perché a 90 giustamente ci sono poi tanti altri mazzi da da view more e riesce a vedere molte più cose però c'è davvero altissima e altissima poi secondo grande problema nadu nadu ragazzi allora c'è da dire qua posso avere un po più di dubbi allora io ho già fatto un video sulla questione e ho detto le motivazioni per i quali per le quali penso che nadu vada bannato vi ho lasciato anche l'articolo di frank arse insomma ne abbiamo già discusso ampiamente quindi non sto a ripetere tutto quello che ho già detto ma anzi vi rilascio anche qua poi nel sotto sotto il video dovrei ricordarmelo se non impazzisco dal caldo e da tutto quanto e vi lascio anche il link al video in cui dicevo cioè facevo questo discorso e copriamo tutto però sì sono d'accordo sul bannato punto fine per tanti motivi però ammetto che qua ci sono anche cioè è facile avere molti più dubbi e capisco anche l'altra scuola di pensiero è molto meno bianca nera situazione molto meno delineata quasi ci sono delle di ripeto ci può essere delle motivazioni serie per quello dice vabbè ma proviamo a farlo proviamo a tenerlo un corpo nel formato quindi giusto ve lo dico che c'è insomma ha senso il secondo motivo per il quale posso dire con la scuola di pensiero così c'è che nadu è più dubbioso rispetto agli altri quindi l'emergency ban è meno urgente e che effettivamente stiamo ancora scoprendo quanto forte e quanto impattante e moda horizon 3 moda horizon 3 ha fatto salire recentemente tra l'altro ha fatto il video marco questo non ve lo linko perché sto ieri praticamente un altro ieri come l'occelot e per dire anche l'altro planeswalker come diavolo si chiamava prossimo marco mar 2 energy lo trovo sicuro il demone mi ricordo mai i nomi mannaggia a me stesso obnixilis lo trova una lista verso la veste eccolo qua obnixilis allora c'è come si stiano imponendo sul meta obnixilis nettamente di meno oselot tantissimo che sta venendo praticamente paragonato al nuovo ragavan e ha dei prezzi incredibili c'è 40 euro il pezzo assurdo allora al pro tour questo mazzo non c'era se vi ricordate sì c'erano degli energy hanno fatto i buoni risultati però era un po ancora in fase embrionale cioè si stava cercando di capire quale versione di energy fosse la migliore c'era la boros energy con la versione più slandi quindi che giocava anche il cavaliere che se l'andava che era la prima granata c'era la versione boros energy un po più mi dirangiosa e senza questo piano slandi magari solo post board e così via c'era la versione più gridi ma nettamente più forte perché ovviamente a prendersi un colore facciamo a molte possibilità e molto più carte rotte che mar 2 energy perché può inserire il master che un'ottima carta da cascare con l'app da raptor che praticamente è un cascante nel mazzo perché se tu lo fai all'inizio del game con zero energie praticamente poi cascare che non droppa due quindi ma fare 21 first right e più master not bad e quindi niente ci sta assolutamente questa versione ovviamente anche più forte per semplice motivo a boh master che può pulire i pezzi dell'altro togliere gli osse lotta l'avversari pulire i vari le varie creature con uno dietro e poi ovviamente gioca anche come carta per fare ridondanza value mid game una volta che stagliamo troppo il board tonia nightmare e l'obnixilis che sono due carte che se entrambi facciamo la cosa paritetica ci facciamo praticamente le stesse identiche cose a borsa al lato vinco io perché io consiglio animare pezzi su pezzi a richiamarle a richiamarle a fare più energie fare prezzi di chiamare ti distruggo ovni xilis che continua a farti più più o meno più o meno più o meno considerate perché obnixilis come funziona riprende una versione che ce l'abbia così magari me lo apro anche grande e cosa fa con due sacrificate una creatura e lui è perché gioia tx quindi voi fate non solo obnixis originale ma fate un token non leggendario uguale obnixilis quindi avete due place walker fanno avete due obnixilis in pratica e questo è molto sergico trattato con l'osselot per questo aumentato per questo si gioca perché l'osselot a fine turno se siete in benedizione della città fate la copia di un token che avete fatto questo turno quindi fate la copia dell'obnixilis sostanzialmente l'unica cosa brutta di fare questa cosa qua è che place walker vi entra in end praticamente quindi non riuscite attivare l'obnixilis appena entrato con la trigra dell'osselot però sti ragazzi comunque a borsa al lato avere 1 2 o più obnixilis è una roba scena perché iniziate a fare uno fa più uno ok scarti una carta per i due vite è ok vabbè per due vite e ne faccio il secondo obnixilis scarto per due vite vabbè ne perdo altre due sono già quattro cioè o sennò si scatta un si scatta una carta per due vite comunque lo mettete a soluzione che visto che continuamente ripetuta ogni singolo turno è un disastrato da fonti diverse è un disastro poi fai tokenini che sono anche quelli molto difficili da gestire perché sono di uno uno che quando esplodono fanno un danno dove dove ci pare quindi rischiano pure di portare via dei pezzi oltre che fare danni in faccia la meno 7 poi è fortissima perché o fa vantaggio carte da noi peschiamo 7 perdiamo 7 o te lo faccio come finisher a te e ti ammazzo perché peschi 7 per di 7 quindi boh ti posso già uccidere così su te danni o addirittura bow master più 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 sono 14 perché 7 7 di obnixilis e 7 del master non male quindi c'è vedete che però è una cosa che nel pro turno c'era al pro turno avete visto un mar due energie ai tavoli cioè magari qualcuno l'ha portato per carità ma c'era qualcuno di tavoli alti no c'era era così diffuso no e questo sicuramente va a influire un po sul risultato che che modern ci sarà perché nado sotto i riflettori bene ma ancora tutte queste strategie così potenti l'abbiamo provate a fondo l'abbiamo migliorate appieno da poter dire cavolo con la du ci stermina non lo so la risposta che non lo so cioè io non vi so dire se questi mazzi che stanno uscendo adesso effettivamente sono così tanto più deboli rispetto nato ma poi anche domanda ulteriore che va anche oltre questi mazzi ok facciamo conto che si vengono migliorati vengono migliorati tenendo in mente nado e lo battono nado quindi cala tantissimo nel meta nado però è in grado di buildarsi un modo di ribildarsi di un modo che riesca a reggere questi mazzi sia comunque un combo estremamente forte ed efficiente riprendono lo sono anche questo quindi sul modern sinceramente mi c'è sono sieno contento del fatto che ci sia un mese in più di testing capisco la sensazione di film bad per i player perché fa praticamente un mese di non formato nel senso che questo mese qua se poi alla fine le carte vengono bannate è inutile perché io testo nadu o testo qualsiasi altro mazzo non è solo nadu perché nadu è proprio l'indiziato però testo energy testo altri deck tenendo in mente nadu quindi come performo in quel matchup come posso migliorare in quel matchup come approccio e così via e se poi mi bannano nadu dico vabbè ok sono contento perché non c'è più uccellaccio rompi coglioni ma ho perso un mese di testing perché non non ho modo dicendo l'ho buttato non sarebbe più niente era il suo problema che avevamo col po per me non è la stessa cosa che diceva anche marco che dicevo anch'io quando testavamo eravamo molto tristi per questa cosa all'inizio prima di sapere del tre ban della placca cefalica nuova perché cosa succedeva siamo anche palle venerdì giochiamo a giocare magic lake pauper è che palle porto questo mazzo però già domani o quello che era che esce modern modo horizon e l'ortura di valle perché poi dopo non devo ricambiare il mazzo poi però per il popper gandons e lavanno devo ricambiare di nuovo alla fine ha fatto il pre ban e quindi direttamente testare già con il meta fatto tutto ok vai go 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 siamo tranquilli e qua lo capisco è simile la cosa per carità non c'era un torneo importante figo come popper gandons di mezzo che sicuramente aiutato alla questione del pre ban ma comunque da fastidio perché essendo un formato competitivo che la gente testa tanto anche per poter andare a far tornei molto importanti come anche poi produrre così via da fastidio però sul modern secondo me è corretto è corretto c'è ancora abbastanza dubbi su nadu nonostante io ripeto sono molto convinto del ban e anche tanta la gente ma ci sta avere quel dubbio e quindi quel mesetto in più sperando che può prendere una decisione che sia ben fatta quindi io mi aspetto a questo punto giusto per chiudere il video aspetto e spero una buona balance ad agosto cioè che agosto abbiano raccolto per bene i dati non siamo andati tutti in ferie non siamo tutti spariti e quindi facciano un qualcosa di buono un buon lavoro che ci diano dati ben precisi dicano abbiamo fatto x y z perché abbiamo questi dati riteniamo sia la cosa più corretta o lavoro pulito rapido veloce indolore quindi niente chiude questo video dicendo con speriamo speriamo cioè se se poi con il 26 agosto quello che recuperano questo mese d'attesa mi rende contento mi spiace ovviamente un po di più per i giocatori di legacy perché lì la situazione abbastanza palese lì potevano anche già più intervenire fare un po più di raddrizzo il tiro però vabbè che lì purtroppo è così niente ragazzi spero questo video sia piaciuto fate sapere cosa ne pensate delle due questioni nei commenti noi ci vediamo il prossimo video ciao ciao e fate i bravi